Potrebbe arrivare nelle prossime ore la decisione sulla parziale riapertura della E45 dopo il sequestro e la conseguente chiusura del viadotto Puleto per rischio crollo della scorsa settimana. Il procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, in queste ore sta infatti attendendo la relazione tecnica dei periti, ingegneri Antonio Turco e Fabio Canè, che ieri sono tornati sulla E45 per alcuni accertamenti. I due consulenti hanno infatti effettuato sul viadotto Puleto delle prove di carico sulla base della relazione che Anas nel tardo pomeriggio di lunedì aveva consegnato in procura. Determinanti a questo punto saranno quindi calcoli dei due tecnici che breve affideranno il loro risponso nelle mani del procuratore, da stabilire ovviamente in caso di riapertura quali saranno le modalità. Il viadotto potrebbe riaprire al traffico leggero a doppio senso di marcia col limite di velocità, rimarrebbero comunque esclusi dal provvedimento gli autotreni ancora costretti ad aggirare l'ostacolo attraverso la 1 e l'A14. La procura potrebbe comunque consentire in caso di risponso positivo la parziale riapertura della superstrada senza dissequestrare il viadotto Puleto.